Potrebbe presto arrivare una lieta notizia per Mr. Madonna. In casa Albino Lefe si sta infatti pensando al ritorno di Achille Cosar, portiere svincolato a giugno proprio dalla Celeste ma tuttora senza squadra. L'estremo difensore arriverebbe con il posto sicuro da titolare, visti anche i tre già in rosa molto giovani e quindi ancora da testare al meglio prima di gettarli nella mischia della Serie B. Una buona notizia quindi per l'allenatore che si troverebbe per le mani un giocatore che già conosce bene e che è considerato tra i migliori numeri uno della categoria. Per quanto riguarda il centrocampo, Madonna ha chiesto alla società ancora un centrocampista in attesa del pieno recupero di Mirko Poloni e i dirigenti seriani stanno provando ad accontentarlo. Marche Dusei ha il nome sul taccuino di Androletti e Inco. L'ex mediano di Sampdoria, Catania e Bari, anche lui senza contratto, potrebbe arrivare a breve. A frenare le trattative alle condizioni fisiche del giocatore che nelle ultime stagioni ha dovuto ricorrere a diversi pit stop in infermeria. Intanto i ragazzi a disposizione si stanno preparando in questi giorni alla trasferta di sabato sul campo del Cittadella a partire dalle 19. Certo, adesso sarà un'altra partita dura su un campo duro. Sappiamo che loro sono in foro e comunque anche in Coppa Italia hanno fatto ottime partite. Andremo lì, ce la giocheremo come abbiamo sempre fatto e speriamo di portare a casa i tre punti questa volta.